Un vero e proprio laboratorio per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti è quanto è stato scoperto dai carabinieri del Norme della stazione di Pontassieve che hanno arrestato 5 albanesi di età compresa tra i 27 e i 43 anni, tutti incensurati e irregolari sul territorio nazionale. A insospettire i militari, continui movimenti a piedi di alcuni soggetti nella zona di Colognole, area periferica collinare del comune di Pontassieve, oltre alla presenza di un walkie-talkie e un fucile da caccia, poi risultato di illecita provenienza. I militari hanno trovato una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana, dotata di una sessantina di lampade a vapori di sodio, di sistemi di aerazione e ventilatori, oltre 200 le piantine in fase di coltura, circa 1000 rami in fase di essiccazione, poco più di un chilogrammo di sostanza già pronta per essere smerciata, più un altro chilogrammo di residui da lavorare ulteriormente. Per completare quella che si può definire una vera e propria filiera produttiva, anche bilance e macchina per il sottovuoto. Il tutto allestito all'insaputa della gestrice della struttura, per questo in due stavano a guardia della piantagione e in costante comunicazione con gli altri tre, mediante walkie-talkie. I cinque sono stati arrestati ed associati al carcere di Sollecciano, tre di essi dovranno rispondere anche di ricettazione e possesso illegale di armi, essendo risultato il fucile calibro 12 con relative cartucce di provenienza illecita.